E' praticamente iniziato il conto alla rovescia per l'approdo turistico di Francavilla al mare, poco più di un mese sindaco e ci sarà il taglio del nastro, quest'opera sarà completata. Sì, finalmente, un lungo percorso che ho seguito dall'inizio del mandato, che ha avuto diversi problemi dai sequestri della Procura della Repubblica, le opere che abbiamo dovuto riniziare e rifare da capo, insomma un'opera molto combattuta, sentita dalla città, per la quale si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Questa mattina proprio abbiamo messo le colonnine che vedete qui inquadrate, che servono a fornire le imbarcazioni, energia elettrica e acqua, gli impianti sono in via di completamento, come avete visto sono i lavori sull'impianto antincendio, fra poco verrà l'asfalto, insomma un mesetto di tempo e il porto sarà funzionante e funzionale in ogni sua parte. Un'infrastruttura che probabilmente mancava a Francavilla al mare? Un'infrastruttura che mancava ma soprattutto che rilancerà questa zona perché in questa zona atterrerà il ponte che collegherà la ciclopedonale nord alla ciclopedonale sud, quindi praticamente una zona di Francavilla che prenderà una nuova vita e che diventerà un fulcro della vita cittadina, sia a livello turistico che anche nei periodi autunnali e primaverili. Ora c'è da vincere la gara per la gestione, nel senso che bisogna stabilire bene come verrà gestito quest'opera, ma questo è un tema che stiamo aprendo in questi giorni e del quale parleremo appunto per il futuro. Il costo dell'opera? L'opera fino ad ora ha avuto tre finanziamenti. Quello iniziale, quando fu iniziato dall'amministrazione Angelucci, vado a memoria, di circa 1.600.000 euro, mi permetto di dire però che quel 1.600.000 euro sono serviti solo ad iniziarla quest'opera, perché poi in verità i veri finanziamenti che hanno fatto prendere vita all'opera sono entrambi della giunta regionale d'Alfonso, mi hanno dato un primo finanziamento di 2.200.000 euro per andare avanti con i lavori e l'ultimo con la delibera, che poi è stata la delibera Cipe, di un milione circa. Parliamo di importi complessivi, quindi non di lavori, ma di quadro economico. Gli addetti ai lavori sanno appunto cosa significa questo. Quindi diciamo che fino ad ora lo Stato, la Regione e la Comunità Europea hanno messo in porto oltre 4 milioni di euro per quest'opera e devo dire che servirà ancora qualcosina per il completamento della parte a terra.